La Fiat ha tutta l'intenzione di recuperare entro i prossimi sei mesi la mancata produzione alla Sevel di Atessa, dove per l'interruzione delle forniture causato dallo sciopero dei tir della settimana scorsa sono saltati 12 turni di lavoro per circa 4.000 furgoni Ducato non prodotti. Lo si è appreso da fonti interne all'azienda. Alla Sevel si è ripreso a lavorare oggi dopo il blocco totale della produzione negli ultimi quattro giorni lavorativi. Il recupero, secondo la Fiat, sarà effettuato collettivamente in regime di lavoro ordinario entro i prossimi sei mesi. Lo prevederebbe l'articolo 3 del nuovo contratto entrato in vigore in tutti gli stabilimenti dell'ingotto il 1 gennaio 2012 che disciplina i recuperi produttivi per le perdite di produzione non effettuata per causa di forza maggiore. Sono previste anche le modalità con cui verrà effettuato il recupero nella mezz'ora di intervallo fra i turni, nel diciottesimo turno, nei giorni di riposo individuale per un'ora al giorno, nelle giornate di sabato e in altri turni aggiunti, previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale. E' infatti immediata la replica della FIM CISL. In 30 anni non è stato mai fatto un recupero produttivo e l'articolo che lo prevede c'era anche prima del nuovo contratto Fiat. Si chiederà alla Sevel di applicare la cassa integrazione straordinaria per i quattro giorni di blocco della produzione che sono stati dovuti a un evento eccezionale quale lo sciopero dei tir e quanto dichiarato all'Agi dal segretario della FIM CISL della provincia di Chieti, Domenico Bologna, previsto nei prossimi giorni un incontro tra le parti per discuterne.